Mi chiamano Prophet e sono l'unico che sa cosa sta per succedere. L'alieno più potente, il Chef Alpha, è ancora vivo. Io ho intravisto il futuro. Se i Chef della fase 2 non riescono a terraformare un mondo a causa della resistenza degli autoctoni, viene avviata la fase 3. La fase 3 prevede l'arrivo di guerrieri Chef infinitamente più avanzati e potenti, direttamente dalla galassia M33. Sappiamo poco sugli alieni della fase 3, ma a parte una percentuale di genoma condiviso con i Chef terrestri, sono molto probabilmente profondamente diversi da qualunque cosa abbiamo mai affrontato.